Eccoci qui cari amici e cari amiche che seguite il canale 2C, ben trovati, siamo alla puntata del martedì, oggi torniamo a parlare di politica, torniamo a parlare delle ultime elezioni comunali che si sono svolte ad Altamura e vi presentiamo uno dei consiglieri neoeletti, insomma cercheremo di fare una carrellata, man mano vi presenteremo tutte le nuove figure che l'ultima tornata elettorale ha designato fra i consiglieri comunali. Con noi è Michele Denora in studio, eletto con Nazione Civica, grazie Michele per essere qui. La vostra è una lista che si è comportata bene in termini di risultato, perché intanto avete superato il partito della Meloni che in teoria era quello che doveva prendere forse più voti di tutti all'interno della vostra coalizione, avete sfiorato il 9% di consensi elettorali in termini percentuali, oltre 3200 voti e avete eletto anche due consiglieri comunali, ci sei tu e Luca Genzi, che poi magari la prossima settimana vi presenteremo. Allora Michele intanto partiamo, andiamo un po' a ritroso, questa campagna elettorale, come è stata? Voi certamente siete fra quelli che possono dire di aver raccolto bene. Grazie Felice, sì, Azione Civica è un progetto che non è nato il giorno prima delle elezioni, è un progetto che va avanti da circa dieci anni, quando durante l'amministrazione di Giacinto Forte i due consiglieri comunali Antonio Petrari e Antonio Colonna hanno costituito questo gruppo politico civico con il quale poi nel corso degli anni abbiamo affrontato una serie di tematiche e grazie al quale abbiamo inglobato una serie di figure, una serie di professionisti che ci hanno permesso poi a conti fatti di ottenere questo splendido risultato. È stata costruita una lista molto omogenea, abbiamo più o meno pescato da tutti i settori dell'economia, cioè da tutti i settori della realtà altamurana, ovviamente abbiamo costruito una lista fatta da persone innanzitutto per bene e che potessero comunque metterci la faccia e quindi far sì che la città potesse dare ampio consenso. Per noi non è assolutamente un punto d'arrivo, è un punto di partenza, come abbiamo fatto nel 2018 dove con quasi 2000 preferenze siamo stati nelle prime liste della città, dopo aver praticamente quasi raddoppiato i consensi rispetto al 2018 cercheremo con il nostro lavoro, quindi innanzitutto con il lavoro mio e con il lavoro dell'altro consigliere Luca, Luca Genco, di creare oltre che una lista civica proprio un progetto politico civico che possa diventare grande e quindi possa dare lustro a questa città. Diciamo che le civiche sono un po' l'argomento di discussione di quelle che sono le elezioni comunali, da qualche anno a questa parte c'è proprio questo lavoro delle civiche che magari si unisce con uno, due, tre partiti storici e comunque sono quelle che raccolgono certamente un bel numero di voti. Credo proprio di sì, perché fondamentalmente questo meccanismo è stato creato da una crisi dei partiti, soprattutto a livello nazionale, le segreterie regionali, le segreterie cittadini ormai non funzionano più come una volta, quindi chi effettivamente poi non si rappresenta in questi contenitori cerca di creare qualcosa di civico per poter dare il suo contributo, quindi per poter dare quel know-how necessario affinché si possa tranquillamente gestire e governare una città. Ecco, voi eravate sei le liste della vostra coalizione, siete andati al ballottaggio sostenendo il vostro candidato Giovanni Moramarco, un ballottaggio che mai ci ha visti tutti gli anni di vita, insomma, io faccio televisione a circa 40 anni, anche se l'elezione diretta del sindaco che è cominciata dopo, insomma, i 30 anni, ma mai si è arrivati a un ballottaggio veramente con un testa a testa che si è potuto leggere solamente alla fine, quando sono arrivate le ultime sezioni e anzi a un certo punto, credo dopo 37 sezioni, era avanti il candidato Moramarco, poi dopo c'è stato un recupero, ma 18 voti sono veramente quasi nulla e su 30 mila e passa votanti, come avete metabolizzato e digerito questo risultato? Diciamo che all'inizio non è stato facile perché obiettivamente l'avvocato Moramarco e la coalizione che l'ha sostenuto ha fatto un grossissimo lavoro tra il voto al primo torno e il voto al ballottaggio, ha praticamente colmato il gap di voti che era presente al primo torno e ovviamente ad alcune sezioni dalla fine era addirittura in vantaggio con la prospettiva di poter eleggere il candidato sindaco. Ti devo dire la verità che 18 voti è un distacco risicato che non ti dà la possibilità di poter esprimere un giudizio reale su quelle che poi sono state, è stata la campagna elettorale, è stata la strategia comunicativa, è stata la strategia politica attuata in questi due mesi, è praticamente un pareggio per il quale la legge, la dura legge ha fatto sì che per 18 voti poi il candidato Petronello possa essere stato eletto. L'avvocato Moramarco nel comizio di ringraziamento alla città di venerdì scorso aveva detto che la città va valutata politicamente parlando considerando che metà degli Altamurani non sono andati a votare, l'altra metà degli Altamurani ha diviso equamente la propria scelta per cui non abbiamo una vera vittoria, queste erano le parole dell'avvocato, anche se in tutta onestà sarebbe stato lo stesso invertendo la vittoria. Io credo che l'avvocato tra le righe abbia detto che innanzitutto c'è la disponibilità da parte di tutta l'opposizione di collaborare in maniera costruttiva con il nuovo sindaco e con la nuova giunta, ovviamente voleva ribadire il concetto che in una situazione di equilibrio è giusto che poi chi amministri non debba magari portarsi avanti i provvedimenti a copia di maggioranza ma ovviamente debba condividere e quindi capire strutturalmente se c'è la possibilità anche di inserire l'opposizione nella discussione di alcuni provvedimenti che poi saranno importanti per questa città. Diciamo che l'inizio non è stato beneaugurante anche perché poi magari alla proclamazione del sindaco una chiamata all'opposizione poteva anche essere fatta, è un esempio di galanteria, è comunque un evento ufficiale in cui magari tutto il Consiglio Comunale ipotetico fin quando non ci sarà la proclamazione è giusto che potesse essere chiamata, hanno valutato diversamente e non so che altro aggiungere sotto questo punto di vista. Beh certamente fare opposizione dopo aver perso per 18 voti è difficile da ingoiare però in effetti è così, ma ecco la vostra è che Marroccoli diceva sarà un'opposizione che abbiamo già sentito agguerrita, saremo lì su ogni scarta, su ogni provvedimento, al di là del controllo ma sarà anche un'opposizione propositiva? Ma assolutamente sì, quello che diceva il consigliere Amico Marroccoli è la verità, è chiaro che il ruolo dell'opposizione in qualsiasi organo amministrativo è quello di ovviamente vigilare su quelli che sono i provvedimenti, su quelli che sono le idee della maggioranza, è anche chiaro che noi abbiamo spiegato alla città in questi tre mesi di campagna elettorale quello che volevamo realizzare e sicuramente proporremo anche negli organi competenti quantomeno le nostre idee principali su sviluppo economico, su sviluppo territoriale, su sviluppo di quello che è il settore collaterale ma non meno importante del turismo, della cultura, dell'intrattenimento, quindi noi sarei sicuramente la nostra sarà un'opposizione molto propositiva. Il turismo, cultura, è un tema che è stato affrontato e trattato dalle due coalizioni, al di là delle posizioni che inevitabilmente sono di governo e opposizione, mi sembra di aver percepito che nei contenuti ci sia convergenza fra le due coalizioni, per cui magari i programmi di lavoro o le tempistiche forse diventeranno oggetto di discussione, ma l'obiettivo mi sembra comune, cioè quello di dotare Altamura di servizi, di strutture, di dare ad Altamura una identità da perseguire, non vivere alla giornata dicendo abbiamo questo, abbiamo questo, abbiamo questo, mettiamo in rete tutto, facciamo sistema. Assolutamente sì, speriamo che si converga quantomeno su un'idea di progetto futuro della città, in tanti spot autogestiti, in tante interviste che hanno rilasciato hanno sempre dato l'idea di voler ragionare un pochettino la giornata, credo che questa sia un'idea sbagliata di gestione di una cosa pubblica, quindi di amministrazione della città. Lì dove loro siano aperti ad un'idea di sviluppo futuro della città, noi saremo disponibili a qualsiasi tipo di confronto, non abbiamo nessun tipo di problema. Senti prima toccavamo un po' in modo marginale, hai toccato il tema della proclamazione, non ci hanno ancora avvisato, purtroppo adesso si scrive su Facebook, è diventato l'anfiteatro delle discussioni, perdendo quella che è l'istituzionalità della politica, questo è un messaggio che voglio lanciare, io rispetto dei social network, servono per comunicare, per raggiungere tutti in modo diverso, però l'istituzionalità della comunicazione, per cortesia, rispettiamola perché altrimenti possiamo togliere anche i comuni, le province, le regioni, diamo tutto in mano a Facebook perché uno si sveglia la mattina, fa un post, quindi su questo tema ci auguriamo che i nuovi amministratori comprendano che questa è una città che fortunatamente ha una televisione, ha i giornali, ha le radio, ha i siti web, la nostra è una città oramai già più o meno uniformata a quelle che sono le grandi città, però se snobbiamo tutto questo apparato solamente con i social network, sono due i risultati, chiunque non è una cosa personale, o non si ha la capacità di comunicare e di capire che esistono delle regole o lo si fa in modo, non voglio usare altri aggettivi, speriamo che l'istituzionalità venga rispettata, critichiamo la vicina Matera, a Matera viene rispettato tutto l'apparato di stampa dalle istituzioni in un modo incredibile, ma anche le associazioni tutti rispettano la stampa, quindi ci auguriamo che questa amministrazione non faccia come la precedente, che la precedente insomma, su questo topava anche. È giusto comunque spezzare una lancia a favore di Canale 2, emittente locale da tanto tempo ed è giusto che sia partecipe della vita politica della città anche perché c'è tutta una fascia di popolazione, di gente che comunque con i social network non ha molto dimesticazza, non è che ci abbia tanto a che fare. I social non hanno l'autorevolezza? Oltre al fatto che non hanno l'autorevolezza. Però hanno la veridicità di un organo di informazione. Oltre al fatto che c'è una fascia di popolazione, veramente che segue Canale 2 per aggiornarsi su quelli che sono gli avvenimenti, su quelli che sono i lavori, su quelli che sono effettivamente… No, è un discorso legato a Canale 2 in generale, proprio a tutti gli organi di informazione. Io qui entro nel tema parlando di tutti, radio, televisioni, giornali, internet. C'è un apparato di giornalisti, di organi di informazione che non può andare dietro ai social network, insomma esiste anche l'istituzionalità. Hai detto bene, sperando che non si commettono gli errori del passato, che magari poi chiudendosi nelle stanze non si rende la città partecipe di quelle che sono le decisioni. Beh, questo sarebbe davvero una cosa non gradevole, perché oggi la trasparenza è veramente la cosa più bella che ci possa esistere, specialmente quando si gestisce un bene pubblico. Allora, stavamo parlando di turismo, stavamo parlando di città, stavamo parlando di opposizione, ma così, giusto per… secondo voi, adesso lo chiedo a te che sei nella parte dell'opposizione, già si vocifera che c'è un toto assessori e che sulla nomina e sulla designazione di alcuni assessorati siano usciti fuori dei mal di pancia. Speriamo che non ci mettano cinque anni per formare un'aggiunta. I rumor sono sedi di varie discussioni su alcuni nomi, ovviamente è chiaro che una buona amministrazione debba puntare su dei nomi di qualità. Sappiamo benissimo il meccanismo della politica, sappiamo benissimo il meccanismo delle spartizioni delle poltrune, però quantomeno chiediamo alla nuova maggioranza di inserire nel proprio staff, nel proprio organico, delle figure professionali competenti che possono lavorare nei settori in cui verranno designati. Diciamo che dei primi nomi che cerco non sono abbastanza fiducioso per quanto riguarda questa mia idea di città, che era quella che noi avevamo comunque comunicato e costruito nelle varie riunioni di coalizione dove comunque avevamo identificato un metodo di scelta delle persone che avrebbero formato l'aggiunta. Per voi sarebbe stato più facile perché avevate sei liste, le liste sono nove nella maggioranza. Io credo che una città debba essere amministrata non perché nuove liste debbano avere il proprio assessore, cioè una città deve essere amministrata da un sindaco e quindi da un Consiglio Comunale e quindi da un'aggiunta nominata per quello che è, al di là delle nove liste, al di là delle persone che compongono il Consiglio Comunale debba avere comunque un'aggiunta di spessore. Eh, ma ci sono quelli che dicono, vabbè io ho preso tot voti e ti cominciano a tirare la giacca. E rientrami in un meccanismo per il quale la città poi rimarrà così com'è, non avrà praticamente modo di avere una progettualità di sviluppo. E le voci che abbiamo sentito è che avrebbero pescato gli assessori dalle liste e non dall'esterno. Queste erano le voci che abbiamo sentito. Sono delle voci che si rincorrono, sì, c'è questo particolare degli assessori tra le liste in alcune liste e in altre no, ma credo che comunque al di là di chi vada a fare l'assessore credo che sia opportuno che almeno indicano dei nomi che abbiano capacità per il settore in cui vengono disegnati. Ah, va bene, ci auguriamo insomma di apprendere da Facebook questa notizia appena possibile, tanto oramai iniziano, sono tutti su Instagram. Poi non so, credo che aspetteranno la proclamazione del Consiglio Comunale per poi fare l'aggiunta. sembrano queste le loro intenzioni, anche se non sappiamo la tempestica, mi hanno detto che la Commissione abbia velocizzato i lavori, non sappiamo quando saremo proclamati, speriamo il più presto possibile. Diciamo che siamo già 13 giugno oggi, Sant'Antonio, a proposito di augurio a tutti quelli che portano il nome Antonio. Ci auguriamo che accada tutto entro fine mese, insomma, stando più o meno alle previsioni. È giusto che la città abbia un'amministrazione, è giusto che… Ah, perché sì, cominciamo a lavorare per luglio, poi agosto, c'è la stagione estiva alle porte, cominciamo a vedere già i turisti in giro per Altamura che arrivano e non sanno dove andare e chiedere informazioni. Serve sì, perché affinché questa città abbia un'amministrazione che inizia a lavorare e soprattutto che ci dicono finalmente qual era la loro idea di città, perché ad oggi non l'ho ancora ascoltata. Come l'ho mai detto ascoltata? Perché non l'ho ancora ascoltata. Beh, hanno parlato in tanti, hanno detto faremo, diremo, come accade nella politica. Ho capito, però l'espressione massima di un'amministrazione comunale è ovviamente il sindaco, è lui che deve dire, deve garantire, deve rassicurare i cittadini su quello che sarà il loro programma di governo. Noi l'abbiamo avuto qui la settimana scorsa e qualcosina siamo riusciti a sentire, quindi adesso vedremo appena inizio la loro, appena si farà la squadra di governo. Aspettiamo i fatti, ovviamente, sperando che non ci sia litigiosità e sperando che non blocchino la mattina amministrativa. Io ho sentito che su alcuni assessorati c'è chi non era d'accordo, chi invece pretendeva maggiore considerazione. Ho sentito che anche sulla presenza del Consiglio c'era una doppia situazione, c'è chi diceva io sono il più anziano ed è giusto che vada io. Chi diceva io ho preso più voti di tutti, è giusto che vada io. La regola che si è sempre, non scritta ovviamente, che si è sempre utilizzata è che il più suffragato facesse il peso del Consiglio. Questa era la regola che ci eravamo dati noi nella nostra coalizione. Se avessimo vinto, Onofrio Gallo avrebbe fatto tranquillamente il peso del Consiglio senza litigare, senza averne sentito. Da voi avete già stabilito le regole prima ancora, in caso di vittoria? Il più suffragato ovviamente avrebbe ricoperto la carica di Presidente del Consiglio, anche perché ovviamente essendo una carica superpartes, chi magari più di una persona che ha preso ampio consenso, possa garantire ambe le parti. Oltre lui anche Marroccoli, credo se non ricordo male. Era a distanza di 40 voti, 50 voti. Però si è perso per 18 voti, si può eleggere Presidente del Consiglio anche per un voto in più. Ah sì, è una regola, è un criterio ben definito per il quale non c'è nessuna discussione. Eh lo so, però quella è l'elezione, la si fa in aula consigliare, vota anche l'opposizione. A scrutinio segreto. A scrutinio segreto, può accadere di tutto con l'elezione del Consiglio. Non sappiamo cosa possa accadere. Noi sicuramente ci riuniremo prima e ovviamente compatti decideremo la linea che avremo nella prima seduta del Consiglio Comunale, decideremo come comportarci. Va bene, allora io non ti voglio rubare altro tempo, tanto ti faccio gli auguri per questa elezione. Per me è la tua prima esperienza diretta, ma presumo dicendo che da circa dieci anni Azione Civica era al lavoro, quindi eri già nell'entourage della lista. Sì, sono stato uno dei fondatori della lista, quindi ho partecipato attivamente alla costruzione di questo progetto. Nel mio piccolo ho avuto qualche piccola esperienza di carica all'interno dell'Università, quindi diciamo un po' di esperienza l'ho messa da parte nel corso degli anni. Va bene, ringraziamo Michele Denora, eletto nelle liste di Azione Civica, per essere stato qui con noi. Noi vi diamo appuntamento come sempre tutti i giorni alla solita ora sul 90 del Digitale Terrestre e adesso vi lasciamo alla rubrica di Emanuele Giordano, che tutti i giorni vi racconta le cose che non tanto funzionano bene nella nostra città, grazie alle segnalazioni dei cittadini. È tutto, grazie Michele. Grazie Felice, grazie agli amici che ci hanno seguito da casa. È una promessa che ti ho fatto quando ci siamo visti l'altro giorno, hai la mia più ampia disponibilità per quanto riguarda questo imbittente locale. No, ma a noi ci piace parlare più con l'opposizione che con le forze di governo. Le forze di governo ogni tanto, perché siete di meno, quindi per controbilanciare dobbiamo dare un po' di voce in più all'opposizione. L'abbiamo fatto anche con i precedenti governi. Però è anche giusto che la maggioranza venga a spiegare. No, la maggioranza deve venire a parlare e raccontare quello che deve fare. Poi, insomma, diamo un pochino, diciamo, su 30 interviste, va, ne facciamo 15 e 15, ne facciamo 18 all'opposizione e 12 alla maggioranza. Giusto per capire qualche cosa in più. A volte chi governa racconta le cose a modo proprio. si capisce di più dall'opposizione a volte una situazione, la comprendiamo meglio tutti. Ovviamente è sempre così in qualsiasi livello di struttura amministrativa. Va bene, grazie nuovamente e buon proseguimento di giornata. A domani.